Ciao, sono Luca Giansanti, medico veterinario, e oggi la mia missione è quella di parlarvi della sterilizzazione dei gatti. Sterilizzare un gatto significa impedire chirurgicamente la sua riproduzione. I gatti sterilizzati subiscono modifiche metaboliche che portano ad una riduzione del consumo calorico. Il gatto sterilizzato, quindi, ha bisogno di un'alimentazione specifica, come i prodotti Monge Sterilized, formulati con un maggior contenuto di proteine di elevata qualità, ridotto contenuto in grassi e fibre insolubili e solubili, come le fibre prebiotiche, utili a favorire il mantenimento del peso corporeo ideale.